Francisco Panteghini, uno dei due soci del marchio Giardinieri Bioetici, è un network di giardinieri che operano in una maniera molto particolare, che si distingue da tutti gli altri, adesso ce ne parla meglio lui. Come vi comportate al lavoro? Perché siete diversi dagli altri? Allora, perché i giardinieri che si certificano con noi e che quindi espongono il nostro marchio Giardinieri Bioetici devono seguire dei protocolli, dei protocolli innanzitutto di comportamento con i clienti. Alla base c'è il dire sempre la verità ai propri clienti. È una cosa che dovrebbe essere naturale, scontata, ma spesso non si comunica abbastanza con i propri clienti né sulle tecniche di intervento, sui tempi che richiedono i lavori fatti a regola d'arte e soprattutto gli effetti dei prodotti che noi usiamo. Quindi noi andiamo a portare nei giardini dei clienti, a loro insaputa, dei prodotti che a volte sono anche dannosi. I nostri giardinieri invece avvisano sempre il cliente di che cosa fanno, come lo fanno e che tempi avrà la risposta del giardino. Quindi innanzitutto questo. E poi sono professionisti certificati da un punto di vista appunto della formazione professionale che è continua. Loro ogni anno sono tenuti a fare un certo numero di ore di formazione sulle nuove tecnologie in modo che nel tempo noi stiamo costruendo delle modalità di intervento naturali, sostenibili, biologiche adatte ai giardini e alla difficoltà anche di lavorare in giardini molto diversi l'uno dall'altro e che richiedono quindi delle competenze specifiche. Ho capito. Più dello specifico, sempre rimanendo in tema, prima mi hai accennato riguardo una tecnica particolare dell'utilizzo di insetti utili, ad esempio nella manutenzione e nella gestione di un giardino. In che modo? Allora, da un lato noi insegniamo ai nostri giardinieri che non c'è nessuna guerra con gli insetti. Ecco, molti giardinieri purtroppo pensano ancora di gestire dei giardini sterili come se le popolazioni di insetto non dovessero esserci, ma questo è innaturale. Devono esserci gli insetti, l'importante è riuscire a gestire la popolazione, quindi non combattere l'insetto singolo, ma cercare di costruire una visione più equilibrata e quindi anche la possibilità di inserire insetti. Questa è una grande novità perché finalmente noi disponiamo anche in Italia di biofattorie che allevano gli insetti utili e noi possiamo introdurli nei giardini. Perché? Perché l'insetto fa parte di tutta una catena alimentare, quindi ci sono, per esempio, le coccinelle, che sono il nostro simbolo, sono fameliche e si nutrono di afidi, ad esempio, quindi capite che possiamo usare il predatore contro la preda. L'importante è mantenere un equilibrio e rendere stabili le popolazioni di insetto. Uno strumento che può essere utile da questo punto di vista è proprio il bagotel, che sembrerebbe una simpatica casetta, così decorativa. In realtà è frutto di uno di quei pensieri lungimiranti che serve proprio a offrire agli insetti utili, in particolare per come è costruita, la possibilità di svernare. Perché il problema di tutti gli insetti è come passare le invernate, quindi facendo le uova in un posto sicuro, piuttosto che facendo un'ultima generazione di adulti che andrà in dormienza e poi si sveglierà a primavera. E fornendogli quindi una casa specifica dedicata a ogni tipo di insetto che noi vogliamo attirare, quindi le api solitarie, le coccinelle, le forbicine, le crisope, sono tutti insetti che spesso i giardinieri nemmeno conoscono. E questo è uno dei limiti della professione, cioè noi dobbiamo conoscere sempre di più il mondo che andiamo a gestire, se no faremo la guerra a degli insetti sconosciuti, perché magari non sapremo neanche distinguere le fasi di sviluppo del singolo insetto. Invece conoscendone il ciclo, conoscendone come si inserisce nell'acosistema del nostro giardino, noi possiamo sfruttarlo, abbiamo degli alleati quindi. Quindi a un momento c'è sicuramente una grossa formazione e conoscenza anche degli insetti e della varietà delle specie che compongono il giardino, perché sennò altrimenti uno interviene con dei prodotti di sintesi, di diserbanti, di pesticidi che uccidono. Un vuoto biologico, di discriminato. Infatti questo è un grosso problema, specialmente anche quando si fanno trattamenti contro le zanzare, si tendono a creare dei momenti di vuoto, però questo si paga a livello ambientale, perché noi andiamo a fare una strage di insetti, anche di insetti utili e di tutti quelli che se ne nutrono, perché il veleno ovviamente non si ferma lì, ma sale lungo tutta la catena alimentare. Noi facciamo dei corsi appositi, anche in collaborazione con la BioPlanet, che è proprio a Cesena, qui vicino, la biofabbrica italiana per eccellenza, che alleva insetti utili da decenni per l'agricoltura. Adesso li sta introducendo anche grazie alla nostra collaborazione nei giardini. Che tipo di efficacia hanno contro gli insetti non utili, quindi dannosi per il nostro giardino? Ma allora, stiamo tutto sommato sperimentando. Alcune cose sono abbastanza ovvie, quindi la lotta agli afidi, siamo molto avanti. In realtà si sta scoprendo il mondo degli insetti, perché grazie alla possibilità di andare a importare anche insetti, per andare a fare delle lotte specifiche o adattare per la lotta certi insetti, siamo proprio all'inizio di una fase di sviluppo molto interessante, di nuove tecniche di approccio. Quindi è la nostra collaborazione di tutto il settore che potrà portare a delle nuove e interessanti applicazioni. Fino adesso è stata un'applicazione soprattutto agricola, quindi risolvere i problemi dell'agricoltura. Però considerate anche la quantità di insetti che noi importiamo da tutto il mondo, che creano grossi problemi, perché? Perché non hanno gli antagonisti. Se noi cominciamo a portare qui anche i loro antagonisti, questo è successo anche per il castagno, ad esempio, con dei lanci selettivi, noi riportiamo l'equilibrio, quindi dalla guerra indiscriminata alla gestione delle popolazioni di insetti. Questo è il passaggio mentale da fare. Per chi volesse approfondire l'argomento, ci sono delle date, possono consultare il vostro sito a Ken Davis. Allora, c'è il sito internet www.giardiniere.bio, è possibile chiedere una consulenza, oppure la prossima settimana, proprio a Ravenna, faremo un corso specifico sulla gestione del giardino naturale con i tecnici della Bioplanet per l'uso degli insetti in giardino. Giovedì 27. Bene, grazie molte. Grazie.